Dopo l'esibizione di Tosca con i suoi appunti musicali dal mondo, martedì 19 marzo alle ore 21 toccherà a Neri Marco Re salire sul palcoscenico dell'Auditorium Flaiano di Pescara con lo spettacolo Le mie canzoni altrui. L'appuntamento rientra nel calendario di eventi culturali Verba Manent, le parole restano tra musica e teatro, che nasce dalla fortunata collaborazione tra l'Accademia Teatrale Arutro nell'assessorato alla cultura del Comune di Pescara. Alessandro Rappattoni, web content editor dell'Accademia Teatrale Arutron. Le mie canzoni altrui è un concerto spettacolo che Neri Marco Re insieme alla sua band porta all'Auditorium Flaiano ripercorrendo le canzoni che hanno costituito la colonna sonora della sua vita e quindi sicuramente attraverserà il cantautorato italiano con De André, Gaber, Fossati ma anche musica straniera. Sicuramente sarà un concerto fatto con affetto per tutti gli autori che lui ha conosciuto e amato nel corso della sua vita. Ci sarà anche un intervento dell'Accademia Teatrale Arutron, ci saremo noi allievi ed ex allievi con una performance ispirata a Giorgio Gaber, all'Uomo che perde i pezzi e poi ci sarà in apertura l'ultima produzione di Arutron e Cuntaterra che sarà Abruzzo e Nuvole uno spettacolo ispirato alla letteratura che ruota intorno all'Abruzzo con canti della tradizione anche abruzzese e ci saranno in scena Massimiliano Fusella, Sebastian Giovannucci, Franco Mannella che cura anche la regia e Marcello Sacerdote. Questo è il secondo dei tre appuntamenti totali del calendario Verba Manne che dicevamo ad aprire. Questo calendario di eventi è stata la cantante Tosca, poi sarà adesso martedì la volta di Neri Marco Re e poi a chiudere tutto ci sarà Antonio Rezza. Sì, Antonio Rezza ci sarà il 5 maggio, sempre all'Auditorium Flaiano alle 21 e ci porterà a Nelante, una delle sue ultime creazioni fatta insieme a Flavia Mastrella che cura sempre il suo habitat scenico e sarà uno spettacolo sul potere diciamo mistificatorio e a volte anche distruttivo della parola quando questa viene usata da chi non la comprende.